Sono giorni che il gestore unico del trasporto pubblico in Toscana è travolto dalle polemiche. Corse saltate, linee soppresse o modificate, liti con i vecchi gestori. Autolinea Toscana ha evidenziato nel giustificare i disservizi la mancanza di autisti a cui sta cercando di far fronte. Molti già assunti, ma ci vorrà del tempo. La mancanza era davvero imponente. Entrando nel dettaglio, vuole però fare alcune precisazioni dopo le accuse ricevute. Sui tagli, innanzitutto, l'azienda spiegano che oltre a non poter riorganizzare tagliando autonomamente i servizi perché non ne ha il potere, non ne avrebbe comunque nessun vantaggio, visto che gran parte dei ricavi si ottengono in modo direttamente proporzionale ai chilometri percorsi. Non è quindi corretto affermare che Autolinea Toscana effettua risparmi tagliando servizi. Seconda cosa, Autolinea Toscana non cambia automaticamente percorsi e orari delle linee, se non modifiche per deviazioni di traffico. E non ha comunque il potere di farlo autonomamente. Ogni scelta in questo senso viene presa da enti locali e regione e Autolinea l'obbligo di attuarla. Così come è la regione a stabilire il prezzo del biglietto e solo lei può modificarne i costi. Al momento, sottolinea Autolinea, il prezzo non è cambiato dal momento del subentro. Insomma, sono enti locali e regione, sottolinea Autolinea, a decidere su tariffe, percorsi, linee e quantità di corse.